Trionfa il mulino della contrada Pedruzzi, al secondo posto si piazza il lavatoio degli amici di Sant'Antonio, medaglia di bronzo per Mauro De Bernardi. Un premio speciale anche per Gigliola Contrio, per la creatività con cui ha interpretato il tema dell'acqua che ha guidato l'edizione numero 4 del concorso delle pile di legna al paese delle storie di Albosaggia. Ero fiducioso perché quest'anno ci siamo impegnati molto, ho avuto l'aiuto di un grande amico come Walter, un grande amico come Daniele, Mauro De Bernardi mi ha aiutato anche lui, ci vanno molte molte ore, progettazione, idea, realizzazione, cambi in corso d'opera. A Isabel so che hai collaborato anche tu vicino al papà. Sì mi è piaciuto molto, è da 4 anni che lo faccio con lui. È nato proprio con l'intenzione di recuperare questa antica tradizione che era quella dell'accatastare la legna, quello che facevano i nostri nonni, i nostri genitori in passato, che è diventato una reinterpretazione. Dietro ogni catasta che è una vera opera d'arte c'è tanta maestria e tanta passione e tanta dedizione. La giuria quest'anno ha trovato davvero difficoltà nello stendere una classifica perché si è voluto proprio premiare la passione con cui i nostri concittadini rispondono a questo concorso. hanno votato oltre 350 persone e le pile quest'anno erano anche sistemate in modo molto aperte al pubblico. Tanto è vero che un nostro volontario ha accompagnato una squadra di ragazzi a fare il giro delle pile con la mountain bike. I ragazzi di Spacca ogni anno partecipano alla costruzione di una catasta sotto la guida di un volontario abilissimo che quest'anno ha ottenuto il terzo premio che è il nostro Mauro De Bernardi.